Siamo qui dopo la partita dell'Under 16 contro Benizzole, abbiamo qua il libro, una partita che non si è ancora conclusa perché c'è il ritorno, sentiamo le parole del nostro libero, benedetta. Secondo me come partita è andata bene, abbiamo giocato bene tutte, come ha detto Sonia non è ancora finita perché c'è anche il ritorno, infatti confidiamo appunto nel ritorno e niente, il primo set, i primi due sono andati molto bene, abbiamo avuto degli alti e bassi però ci riprenderemo. Buonasera, sabato avremo una partita molto importante, la penultima gara di Serie B2, sarà fondamentale per noi riuscire a portare punti a casa per la zona salvezza e sentiamo cosa ha da dire il nostro posto Sonia Basalari. Alizia mi ha già preceduto, una partita importantissima per la zona salvezza e noi siamo tutte cariche pronte per portarci a casa questi punti che ci meritiamo e che sono importantissimi per noi. Buona serata! Seguiteci su Youtube! Grazie! Grazie!